Bentornati a Oltre l'eroe. Gli eroi di questa sera sono il duo che recentemente ha riportato la pace nella nostra galassia, Ratchet e Clank. Allora amici, raccontateci le vostre ultime incredibili avventure. Beh, come puoi immaginare siamo stati abbastanza impegnati. Dopo la sconfitta di Drek ci sono state parate, conferenze stampa, balli eleganti. Dimentichi le grigliate d'anno. Ah sì, anche quelle. Poi però la situazione ha cominciato a calmarsi e noi... Beh, c'è stata una grande apertura a Grumviliud. Vero? Cos'era? Settimana scorsa? Precisamente sei mesi fa. Siamo ancora abbastanza occupati in un modo più domestico. Sì, ieri l'ho gettato un trattere in nucleo del radiatore. Credo che questo non interessi a nessuno. Visto dal moto? Ho trovato il nostro uomo! Benvenuti! Cosa ti? Sono Overcrow di Fismichetta, fondatore dell'industria Megacorp e l'elagosia Wobens. Wobens? Mi dispiace di strictermi, ma la vostra intera galassia è in una situazione molto precoce. Devo gentilmente richiedere il vostro sostentamento in una missione d'estrema urgenza. Una missione di superfluo pericolo. Una missione di incontinente e difficoltà. Non capisco cosa stia dicendo. E quindi... Ha bisogno di me per una missione pericolosa in un'altra galassia? Quindi dobbiamo interi. Qualche giorno fa, un nostro esperimento biologico, assolutamente non-secret, è stato rubato dal nostro lavadoio da un mazzoso genio criminale sconosciuto. E io ho bisogno di riavere questo esperimento. Ci pensiamo noi. Noi, hai detto? Sai, Crank! Ho precipitato i tuoi dubbi e ho preparato una sorpresa per te. Siamo pronti a offrirti un posto di lavoro come capo contabile della Medacorp, oltre a un bellissimo attico a Megapolis, che è una nostra eccezionale massata di gerotica. Accetto. Per quanto ti riguarda, recetto, mi servi in forma smagliosa. Mentre viaggerai verso la galassia a poco, non sarai addestrato nelle arti marziali, nell'uso delle arti pesanti, e seguirai in corsi di sovrappurezza, di bibititati ordi, di matramenti, maio e di noida. Abbiamo utilizzato il vettore bipolare per individuare la posizione dell'altro in una base volante nel settore 7. Infiltripulati nella base per recuperare il nostro esperimento. Signore, pronti a partire.